La piattaforma ASBIM gestisce il versioning dei file. Ogni qualvolta si modifica un file, è possibile archiviarne una copia con la funzione Consolida. Ciascuna versione dello stesso file, può essere resa quella corrente, e quindi riaperta ed ulteriormente modificata. Ogni file, per poter essere scaricato da ASBIM sul proprio computer, deve avere almeno una versione consolidata. Creiamo ad esempio un nuovo computo con Primus DCF. Inizialmente, la matita arancione indica che il file è in modifica, inoltre non esiste ancora nessuna versione consolidata. Procediamo quindi realizzando il nostro computo come sempre. Al termine salviamo le modifiche, e torniamo sulla home, perché vogliamo scaricare il file appena realizzato, sul nostro PC. Cliccando sul bottone con i tre puntini però, troviamo la funzione Download non attiva. Infatti, non abbiamo ancora creato la prima versione del file. Per fare ciò, cliccando sulla matita arancione, basta selezionare la funzione Consolida. La matita diventa grigia, e da ASBIM salva ed archivia la prima versione del nostro computo. A questo punto possiamo procedere al download del file, salvandolo in una qualsiasi cartella del nostro computer. Per fare ciò, cliccando sulla valore elle,緊